che ci crediate o no oggi ho fatto una cosa che in vita mia avevo fatto una sola volta a Disneyland Paris cavalcare un toro meccanico risultato è stato scadentissimo è stato bruttissimo ho fatto veramente schifo credo aver fatto il record mondiale di schifo però il video ve lo faccio vedere lo stesso eccolo iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti